E effettivamente fa più male lo scotch che la donazione effettiva. Nessun timore davanti al lago, diciottenni coraggiosi che hanno donato il sangue per la prima volta compiendo un gesto d'amore per il prossimo. L'iniziativa si è svolta in tre sezioni del liceo Marconi del Pino di Chiavari. In classe i volontari FIDAS hanno spiegato il valore di questo gesto, molti si sono prenotati e dopo i controlli sono saliti a bordo dell'autoemoteca. Mi fa sempre piacere sapere che qui in Italia c'è comunque una persona che grazie al tuo aiuto verrà aiutata o anche salvata, sono sempre delle belle sensazioni. Non ho sentito praticamente nulla, a parte un po' di giramento di testa, però con un po' di focaccia è passato tutto. Lo rifaresti? Assolutamente sì, aspetto i sei mesi e poi sono di nuovo qua. Non vedevo l'ora di farlo da quanto ho compiuto 18 anni e finalmente l'ho fatto. Ho sempre visto i miei genitori farlo e quindi ero desiderosa di poter aiutare. L'iniziativa è stata promossa dall'HHT Onlus, l'associazione di malati affetti da una patologia rara, la teleangectasia emorragica ereditaria, una malformazione dei vasi sanguigni che provoca emorragie in varie parti del corpo. Il coordinatore regionale si batte ogni giorno affinché ci sia maggiore sensibilità e per i ragazzi è stato un esempio concreto di come viene destinato il sangue. Noi malati di questa patologia abbiamo spesso bisogno di trasfusioni perché animizziamo in quanto le perdite sono molto frequenti e a volte anche copiose. Quindi questa raccolta per noi è fondamentale. Infatti da 5-6 anni portiamo avanti un'iniziativa che si chiama MyHHT Valentine che è un modo di invogliare i giovani a donare. L'iniziativa è partita proprio a San Valentino e si è conclusa pochi giorni fa. A dare una mano all'HHT Onlus è stata la FIDAS che ha potuto trasmettere agli studenti il desiderio della donazione di sangue. I ragazzi in realtà sono generosi, capiscono il bisogno che c'è di sangue, capiscono anche tramite esempi, esperienze vissute. Insomma riusciamo a trasmettergli sia la necessità che i valori. Grazie. Grazie.